ah certo beh dove si va non vedi è rimasto fuori oh ma hai foto con qui poi quando c'è a barra vedi vai sotto, vai Federico, questo è tuo qua, metti qua sotto il codice vai, mi ha la spinta, docca a me e vado anch'io e questo è il mio ragazzi buongiorno e come avete visto siamo entrati alla legoland vero loro sono contenti sono un po acciaccati tutti e tre non so che cosa hanno combinato ieri al campeggio si sono ammazzati comunque noi siamo arrivati qui alla legoland adesso giriamo un pochettino al parco iscrivetevi al canale mi raccomando ragazzi ci fa piacere noi facciamo sempre questi video e via allora andiamo sulle mongolfiere praticamente dobbiamo tirare un filo decogliamo? 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 dai proviamo mi hanno convinto ad andare a mitica ma siamo sicuri? io non tanto ora ve lo faccio ve lo faccio vedere eh resisterò? non lo so vabbè ci proviamo ragazzi mi sto preoccupando mamma mia bello però non lo sto quando senti di sottosopra che fai nel vuoto lo senti proprio si stacca il sedile da sotto senti oddio bello 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 andiamo avanti staggitto relativamente un nome nooo no oh Dio ooooooooo che sticca nooo ma tu non sei bene nooo no non sto bene mangiati nudes e adesso andiamo al Ninjago Tri ah bello che non ti senti pronti eh? pronti per quest'altra missione con Ninjago l'amena 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 no no io non ci vado perché qua se gira e vomito a tutti i doni ad ora E' buono E' buono Che fido E' un topino Un topino Sì, sono papi E' buono E adesso andiamo a provare Questa montagna russa Dai, andiamo, andiamo Eccoci Saliamo Nel planet Legoland E qui Andiamo A farci un giro Nel mondo Noi ve lo prendiamo Questo Mamburgo Ditemi dove volete andare Vogliamo andare in Olanda Andiamo in Olanda ragazzi In più vi porto All'Allianz Arena All'Allianz Arena Mi stanno portando sopra un'altra attrazione un po' particolare, bella però eh, speriamo bene, il flight della Ninjaco, io non so sicuro di fare questo gioco eh, ragazzi, stiamo andando, oddio, oh madonna, una figata ragazzi, una figata ragazzi, non sono andata in testo in giù, ma perché avevo la GoPro in mano, però niente male come attrazione, adesso andiamo a Lego Fabric, andiamo a vedere che cosa ci sta dentro questa attrazione e poi mi sa che le giostre chiudono, cioè praticamente chiude la Legoland e dobbiamo continuare domani e domani stiamo anche con qualche amico. Che figo, la produzione dei Lego. La piccola fabbrica in miniatura della Lego. Niente, closed, closed e oggi abbiamo finito, praticamente alle cinque precisi chiudono tutto e niente, ci vediamo magari domani, ora vediamo se sono arrivati questi nemici in macchina e continuiamo domani ragazzi. Alla fine ci siamo andati a comprare il barbico elettrico, guarda questa, guarda la gnappetta qua, saluto a tutti, ma la lingua? Ma ce l'hai la lingua? Sono venuti a trovarci gli amici da Roma in macchina, non ci vediamo a Roma ma ci vediamo in Germania, guarda qua. Saluti a tutti! Saluti a tutti! Dai! Ma che fai, un cinghiale fai! Domani mattina tutti a Legoland, ragazzi noi adesso mangiamo, ci vediamo direttamente domani mattina è vero? Ci vediamo! Saluti a tutti! Di presente! Chiudi! Chiudi, chiudi il quadro! Chiudi, chiudi! Dai uno schiaffo alla telecamera! Vai! Pachini! City! Tanque sono grandi, oh! Buongiorno! Oggi una ragazz... una ragazza? Una giornata uggiosa! Tamp minchia, si sbagliare! guardate qua va sta piovendo e anche sotto l'acqua noi andiamo tutti infermiabilizzati con tutta la raffreddura andiamo a fare l'ultima parte di legoland legoland sotto la così la comitiva aumenta guarda un po' saluta ciao carino e va bene andiamo al legomobile andiamo al legomobile già qui ragazzi la stava a perdere qua eh francia francia sta mai capocciato sta mai capocciato qua tra un po' eh padre in second roll po the way a gopro un po' che torri il po' che torri e a a i la a a a a a con questo treno possiamo vedere tutto il parco di legoland dutchland tutto il parco no che è il parco adesso andiamo a farci un giro all'edgo technic livello 4 ragazzi magnifico il building no il power builder è uno spettacolo ho detto il building che sbagli tu numero 4 più grande di tutti livello 3 livello 3 da paura livello 4 livello 4 vabbè dai una figata e continuiamo ancora con questo legoland sono pronti eh dove stanno andando siamo alle gole legoland volano adesso e vedete bene ok ciao papà abbiamo finalmente terminato il nostro è sbagliato il nostro aspetta guarda che bello la busta legoland questa non ce l'aveva ci mancava questa qualcosa è bellissimo il cubetto legoland è bello allora il parco legoland è veramente una gran figata bello 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 pecche pecche aspetta che non ci penso non mi ricordo adesso non mi ricordo non credo proprio che ci sono delle pecche no e anzi fila fila zero assolutamente zero sarà stata fortuna non lo sappiamo però pecche si qual è non c'è sta il cinema in italiano sono in tedesco non ci capisco niente comunque file non abbiamo trovato per niente due giorni zero file e niente quindi possiamo chiudere questo video Federico sta rallentando la nostra uscita verso il campeggio non vuole uscire forse iscrivetevi sempre al canale che facciamo? lo chiudiamo questo video docca di partire no no vabbè dopo magari dopo buu chissà vabbè per l'egola non è finito adesso ci andiamo a fare il barbecue e domani ritorno per Roma vai chiudi il video Flavio saluta a tutti e chiudi il video ciao che si dice? iscrivetevi iscrivetevi al canale dai ciao 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 Grazie.